Quanto usano l'auto gli aretini toscani? Allora, gli aretini in questo caso la usano moltissimo e noi siamo fra le città d'Italia che ha più macchine per procapite quindi su 100 abitanti noi abbiamo 64 macchine. È ancora una chimera in Italia e la Toscana non fa una gran differenza l'abbandono dell'auto per muoversi e utilizzare mezzi ecologici come la bici o i mezzi elettrici. Il quadro delle brutte abitudini in fatto di mobilità lo leggiamo nelle pareti del treno verde di Lega Ambiente fermo al binario 1 della stazione di Arezzo da domenica 10 marzo. Parliamo in generale della mobilità sostenibile quindi abbiamo un trasporto pubblico locale vecchio che non tiene conto di nuove tecnologie, le nuove applicazioni insomma non si dà la possibilità ai cittadini ad esempio di coprire il cosiddetto ultimo miglio con i mezzi della cosiddetta micromobilità elettrica quindi strumenti che se resi legali perché purtroppo nel nostro paese sono ancora illegali potrebbero aiutare i cittadini proprio a rendere i propri spostamenti più veloci ed efficienti. Tutti i capoluoghi toscani, Arezzo compresa, sono insufficienti sul fronte della qualità dell'aria unica che fa eccezione Pisa. Abbiamo deciso di fare la misurazione in alcuni punti che noi ritenevamo insomma punti di attenzione quindi di fronte alle scuole piuttosto che in centro, piuttosto che in altre aree sensibili e abbiamo misurato il particolato e i risultati di questo monitoraggio sono non troppo incoraggianti bisogna un attimo parlarne, farli conoscere alla città e ragionare insieme sulle modalità per cui è indispensabile ridurre il traffico e i flussi almeno in alcune ore del giorno. Sul treno verde i bambini giocano, leggono ed imparano a rispettare l'ambiente i grandi invece possono firmare questa petizione per far circolare nelle nostre strade e piste ciclabili questi monopattini elettrici mezzo molto diffuso nelle metropoli europee illegali ancora in Italia.